Buonasera cacciatori di Pokémon Quando le tenebre calano I cacciatori che per tutto il giorno Hanno sudato sette camicie per acchiappare i Pokémon Si ritrovano davanti al fuoco Per analizzare il Pokédex e tutte le imprese della giornata Mentre altri cacciatori partono per le cacce notturne E quindi ci sono cacciatori che vanno e cacciatori che vengono Oggi i cacciatori erano troppi I server oggi 16 luglio sono andati in tilt due ore e mezza in tutto il mondo Il che vuol dire che la caccia è aperta Il che vuol dire che la competizione è al limite della tolleranza Allora vediamo, siamo arrivati Facciamo il punto della situazione Siamo quasi a lotta al nono livello Per il nono livello sarà il nostro obiettivo di domani Adesso intanto volevo potenziare con voi Golbat Il mio Golbat è più potente Per cercare di portarlo Ancora più in alto Mille di polvere di stelle Perchè non me lo fa potenziare? Non lo posso potenziare Non lo posso potenziare perché devo essere più alto io di livello Per portarlo più in alto Bene adesso ho scoperto un'altra cosa Cari cacciatori Per portare i Pokémon in alto Bisogna che il cacciatore sia potente E allora dovrò diventare un cacciatore più potente da domani Allora vediamo di far evolvere P.G.8 Ok pronti Facciamolo evolvere P.G.8 Facci vedere che cosa diventi Eccolo qui Che si trasforma In tutta la sua potenza stellare Eccolo qua Nuovo Pokémon Col ciuffo biondo E lui è P.G.O.T E sta già al 428 E allora potenziamolo proprio Ok potenziamolo Uuuu 457 Vediamo se ce lo fa potenziare ancora Potrebbe diventare il mio Pokémon più potente Uuuu Fammi vedere 486 E' diventato il mio Pokémon più potente Vediamo se me lo fa potenziare ancora Non me lo fa potenziare perché dice Ti serve più polvere di stanza Ah perché adesso ci vogliono mille Ok Allora Vediamo se ci fa potenziare Sì Potenziamo anche i Visaur Ok Vai Visaur Facci vedere la tua potenza Ok A 283 Abbiamo usato tutta la polvere di stelle Che avevamo Adesso non ne abbiamo più Però P.G.8 E' diventato il mio Pokémon più potente Ah 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 Ok cacciatori Adesso vi faccio vedere il nostro uovo Da 5 km Siamo arrivati a 4,8 Domani faremo schiudere l'uovo E passeremo a livello 9 Sempre più potenti Oh Abbiamo ottenuto anche un premio Ah perché è il terzo Pokémon che facciamo evolvere Ok cacciatori Sempre più potenti Sempre più pieni di premi Vediamoli Ah attenzione perché Facendo evolvere il Pokémon Siamo arrivati a 7749 E allora puntiamo a livello 9 Se abbiamo abbastanza Pokéball Vediamo se riusciamo a prendere questo Questo Zubat Anche se non ci serve Però ci porta Ci potrebbe portare a livello Più alto Dai Dacci dei Pokémon Dei Pokémon qualunque E arriviamo a livello 9 Dai Dai Dove siete? Venite fuori Pokémon La caccia è aperta E io vi troverò Oh Questo chi è? Oh Oh Un Abra Ce l'abbiamo già Però ci può servire per salire Al nono livello Preso al primo colpo Il cacciatore ha colpito ancora Eccolo qui Daccelo 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 Era più lento Ok Ok Cacciatori Il gioco è crashato Eccoci qua A questo punto Con quell'acchiappo Dovremmo essere No Manca pochissimo Ci serve un Pokémon Oddio Zubat lo odio Però se ci serve per andare a livello Prendiamo Zubat Ok Zubat sei mio Eccoti Preso al primo colpo Perché il cacciatore Non fallisce mai Dammelo E dammi il livello Dammelo E dammi il livello Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì cacciatori adesso vediamo se me lo fa potenziare ti serve più polvere di stella o lo possiamo potenziare adesso bene bene abbiamo i pokemon più potenti l'uovo si sta per schiudere abbiamo già raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati per domani cioè nono livello ok cacciatori qui sotto in descrizione trovate la pagina instagram del canale e trovate anche la pagina facebook del canale iscrivetevi cliccate mi piace perché la caccia è ancora lunghissima e buona caccia a tutti cacciatori